Preghiera della Sera A fine giornata mi rendo conto di come spesso io manchi di misericordia verso il prossimo. L'ho misurato secondo criteri di prestazione, l'ho giudicato dalle apparenze, l'ho classificato in certe categorie. Ti prego, Signore, aiutami ad imparare come vedere gli altri, con il mio cuore, al di là di ogni apparenza. Amen Grazie